Allora siamo al Bristo, c'è stato un importante incontro oggi di presentazione? Certo, abbiamo fatto una conferenza stampa, abbiamo presentato la maxi area, diciamo il distretto turistico della Laguna Sud che comprende, diciamo, Chioggia, Isola Verde e Rosolina. È una macro area, un distretto, un distretto turistico, è una cosa innovativa. Tra i partecipanti abbiamo invitato, diciamo, i nostri architetti che l'hanno spiegata questa cosa. Però abbiamo voluto anche che siano presenti gli istituti bancari più importanti, tra i quali noi abbiamo invitato Intesa San Paolo perché riteniamo opportuno che noi imprese, quando presentiamo questi progetti, siamo affiancati anche da istituti seri che ci possono dare l'opportunità di fare investimenti e di preparare il futuro della nostra città con biglietto da visita differente e con nuovi segmenti di mercato verso il parco del Detta del Po. Presente c'è ora questi signori dell'Intesa San Paolo, l'amico Flavio lo conosciamo, lo presentiamo già ultra conosciuto. Io opero sulla piazza come gestore di imprese e seguo direttamente i contatti di Intesa San Paolo con queste aziende sul territorio. Ti presento il nostro direttore Favaro Marco che è il direttore della filiale imprese di Dolo da cui noi in Chioggia dipendiamo e quindi ha territorialità per quanto riguarda Chioggia. Nonché il nostro responsabile di area, di area che è il signor Bada Paolo. Tutte persone che comunque conoscono bene il territorio per essere a disposizione, come diceva Giuliano, di quelle che sono le realtà locali.